Ciao Paolini, ciao Paolini e benvenuti in questo nuovo Plane With Me, allora nuova settimana allora il video da oggi in poi uscirà alle 21 di ogni lunedì quindi il lunedì praticamente sarà già passato però noi partiamo sempre da lunedì, questa settimana da lunedì 28 ottobre arriveremo fino a domenica 3 novembre quindi raga intanto lasciate un like sulla fiducia mi raccomando, quindi ragazzi praticamente arriveremo a novembre con questa settimana allora ho scelto un tema Halloween e ho cercato il più possibile di, aspettate che forse un pochino di zoom indietro ce la faremo farlo aspettate ecco leggermente ok un po di stickers di insomma autunnali soprattutto di Halloween e ho trovato questi con le zucche i teschi la scopa questa lapide insomma qui c'è addirittura c'è scritto happy halloween quindi raga un pochino di temi halloweeni li ho trovati un po di stickers così qua c'è scritto november e poi questi colori insomma qua ci sono anche delle zucchine c'è delle zucche che avete già visto e userò questo mentre come colori come pennarelli come penne insomma userò questi qua che come vedete i colori non mancano o insomma poi una novità aggiungerò sempre il meteo della settimana in questa agenda che tra l'altro qualcuna di voi mi aveva consigliato allora ovviamente il meteo per una settimana potrebbe cambiare ma io metto la previsione ad oggi allora comincio con questo rosso per scrivere raga lavoro allora lunedì e martedì si lavora rimettiamo un pochino di zoom che dite ok questa era la mia pancia scusate allora andiamo con belli questi questa è sempre la mia pancia e nonostante abbia fatto colazione e brontola perché sono le 10 del mattino chissà aspetta già lo spuntino mio stomaco non lo so io da un paio di prendi with me ho deciso di colorare di fare insieme direttamente due pagine alla volta perché sennò veramente diventa molto lungo il video ma meno di mezz'ora raga non c'è non ce la faccio quindi lavoro usiamo solo questo penarello per il lavoro la luce sempre quel che è in questa casa poi talmente grigio oggi fuori ho aperto anche le tende per farvi un po più di luce ok credo che le 21 sia un orario più consono anche perché raga questo video molto rilassante se lo guardate prima di andare a letto o addirittura vi ci addormentate sopra e c'è è top raga io uso i video di youtube per addormentarmi non so voi ma me lo scrivete spesso che fate anche voi così allora invece questo bel azzurrino voglio usarlo per scrivere gli orari ok bello allora lavoriamo oppa la prima scossa dalle 6 no perché ho scritto le 6 non lavoro più di mattina raga adesso mi tocca cancellare dalle 13 alle 20 quindi un attimo che cancello questo 6 tremendo raga cominciare così veramente ma con questo nuovo orario trafuso orario c'è fuso orario ora solare mattina ho capito più niente comunque benissimo abbiamo cominciato proprio bene tra l'altro finito anche la cancellina ho utilizzato cose d'emergenza allora scriviamo bene dalle 13 alle 20 il lavoro raga ok e poi lo scriviamo anche qua il martedì uguale dalle 13 alle 20 benissimo mi piace allora adesso usiamo un colore per ogni cosa allora un verdino questo qua facciamo il pasto della giornata praticamente potrei scrivere cena però io scrivo pasto della giornata anche qua ok ok bene poi il pasto lo scrivo in azzurro oggi ho hamburger hamburger io aggiungerei senza pane più insalata domani invece mi faccio un insalata col tonno ok poi io spero che vediate qualcosa con ste luci fatemi sapere poi uso di nuovo il rosso per scrivere meteo e anche qua raga prossimo acquisto una lampada da tavolo perché con la luce della cucina vedete che ci sono tutte tutte le ombre qua le ombre del cavalletto e quindi è molto fastidioso quindi prossimo acquisto una lampada da scrivania così non avremmo queste ombre qua stranissime allora il meteo il meteo vuole un altro colore cosa posso scusare un viola prendiamo un viola allora per oggi lunedì che ormai è finito la previsione dice 11 16 gradi ovviamente la minima la massima ok mentre per domani 7 15 si sta abbassando tantissimo la temperatura raga cioè comincerà ad abbassarsi nei prossimi giorni è vero possiamo fare così 7 15 che è più professional gradi ovviamente ma io lo scrivo lo stesso correggiamo anche di qua ok quindi vedrete che giorno dopo giorno si abbassa e facciamo oggi nuvoloso facciamo la nuvoletta la coloriamo anche ok mentre domani mette pioggia quindi facciamo così questo è il simbolo della pioggia facciamo anche la nuvoletta sopra va ecco qua mi piace che ho aggiunto il meteo adesso andiamo a pescare qualcosina questa casettina qua pescare qualche adesivo la metto qui siccome piove bisognerebbe stare a casa ma io lavoro poi un maglioncino mi piace usiamolo perché tanto segna l'arrivo insomma del vero freddo poi andiamo a cercare qualcosa di halloween qua ci sono due zucchine guardate la cancellina sul mio dito vediamo se riesco a toglierla si sta andando via ok ci mettiamo le due zucchine questa arancione qua e questa la metto qua ok poi vediamo vediamo qualcosa di più tema halloween eccolo qua questo ci vado a prendere un teschio che lo metto lunedì perché lunedì è sempre tragico è da questa parte un fantasmino un fantasmino qua qua sopra ci voglio aggiungere ancora due cose una foglia di autunno e questo pentolone della strega qua sopra bene direi che lunedì e martedì sono conclusi andiamo a mercoledì giovedì che si lavora di nuovo cioè ancora più che altro quindi lavoro lavoro andiamo anche a giovedì mercoledì in realtà sarà un po diverso l'orario giovedì giovedì un prefestivo quindi raga ci sarà l'inferno da noi e lo stesso sarà il dopo festivo che sarebbe sabato quindi sono saranno due giorni ma credo una settimana movimentata con tanto da fare ma è anche la mia settimana preferita raga settimana prossima sarò in ferie e verrò a milano ok ok adesso andiamo a scrivere gli orari che non mi ricordo già il colore azzurro ecco mercoledì cambia perché lavoro di nuovo alle 12 ma solo mercoledì quindi 12 20 e giovedì torno alle 13 13 20 ok io devo sempre controllare che ho fatto come dietro anzi mi vado a vedere pasto della giornata in verde pasto della giornata pasto della giornata ok poi cosa maniamo dopo l'insalata col tonno del giorno prima ci sta una bella pasta io scrivo col pesto ma potrebbe essere potrebbe essere anche qualcos'altro mentre giovedì mi serve della carne carne e verdure ho tutto a casa quindi benissimo poi il meteo il meteo mi sembra che l'abbiamo scritto rosso e poi in violetto allora meteo beh non potevo non aggiungere il meteo raga allora per per abbiamo mercoledì abbiamo 9 15 come temperatura 9 15 gradi giovedì vedete si abbassa 5 15 ok gradi mentre il tempo allora giovedì no scusate mercoledì ha uguale nuvoloso quindi che colore ho usato per fare nuvolette azuro abbiamo due giorni grigi come non poteva non esserlo ok benissimo penso che abbiamo fatto come di là esatto allora andiamo a metterli attessivi intanto queste caramelle che sono assolutamente tema halloween perché quando vengono i bambini a chiederle bisogna essere pronti raga quando vengono a suonare io non so se verranno qua ma io non sono pronto io non sono in casa allora un bel pipistrello mettiamolo qua che è nero come la caramella poi il cappello della strega lo metto qua questa lapide rip ci metto la scopa questa era forte scossa sto imparando a non darvi colpi comunque poi ancora caramelline un ragnetto troppo carino e ci sta ci sta buh che vi farà tanta paura però ci sta anche questi occhi questi occhi li voglio mettere qua guardate abbiamo la pagina le pagine di mercoledì giovedì benissimo poi venerdì che da solo qua sono libero libero perché è festa il primo novembre qui volevo decorare casa di natale ma poi nel vlog vi dirò cosa ho deciso domani eh mi raccomando domani alle 21.30 in vlog facciamo una premiera ah tra l'altro per il giorno prima di questo calendario mi sono dimenticato una cosa perché era proprio il giorno di halloween quindi adesso torno un attimo indietro mi sono dimenticato una cosa allora sono libero ma qua perché è il 31 è proprio halloween raga e non posso scrivere non posso non mettere questo adesivo con happy halloween e poi avevo visto un'altra cosa questo qua con la zucca questo lo voglio fare pieno pieno perché 31 ah 31 ottobre ops vediamo se riesco a sì a metterlo qua 31 ottobre e poi cosa ci possiamo mettere mettiamo un'altra zucchetta che non riesco a prendere le pinzette non ce l'ho portata di mano vabbè ci mettiamo quella grande dove la metto qua un altro calderone della strega non ce la faccio un lecca lecca qua c'è qualcos'altro zucchette ghiande va bene così non esageriamo abbiamo fatto la pagina di halloween allora torniamo al mio libero di venerdì quindi relax 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 yeah ok poi qui non facciamo non abbiamo i pasti della giornata però possiamo scrivere il meteo perché sono a casa e quindi meteo però il primo novembre potrò provare il mio robot da cucina che è appena arrivato quindi qualche ricettina insieme allora primo novembre e venerdì abbiamo 4.12 quindi ancora più freddo tanto che starò in casa 4.12 gradi ah però ha messo il sole raga dai per la prima volta che io non ci credo è perché sarà sempre grigio mette sole dai primo novembre e quindi nulla non dovrò fare nulla ci attacchiamo queste zucche che abbiamo già utilizzato che sono carine le uso tutte metto tutte zucche il primo novembre ce n'è ancora una sola qua wow poi avevo trovato eccola qua la scritta novembre raga perché entra novembre mettiamo qua sopra cercando qualcosa per voi è che mi piacciono tanto queste mettiamo questo qua ecco ci devo scrivere qualcosa dentro ci scrivo che festa festa il borbottio della mia pancia continua raga mi dispiace allora qua ci voglio scrivere november e scriviamoci baci ok non so cosa metterci ancora qualche cuoricino ce li ho se riesco a staccarli ho i miei dubbi ci avevo provato con le pinzette mi ricordo raga ma non ero riuscito a staccarli beh io c'ho tra qui questi cosi non so perché non vogliono staccarsi questi comunque vabbè dai novembre lo lasciamo così cioè il primo novembre lo lasciamo così poi andiamo a sabato e domenica allora si torna al lavoro sabato un'altra giornata super impegnativa sicuro ma è l'ultima raga e ci lavoriamo dalle 13 di nuovo alle 20 poi io devo andare sempre a rivedere i colori perché non me lo ricordo la verde pasto della giornata mi piacciono questi pennarelli pasto della giornata ok in azzurro sinceramente non lo so raga perché un giorno prima non so che cosa ho mangiato quindi secondo me faccio di nuovo un'insalata per sabato dai insalatona poi insalatona poi vedremo anzi faccio così insalatona ecco di riso c'è ancora un con di riso guardate correttore correttura in volo insalatona di riso ecco ecco c'è stavo mentre qui posso scrivere finalmente vacanze raga cominciano cominciano i miei 8 giorni di riposo domenica 3 questa era doppia scossa e non ve le aspettavate dite la verità vacanza e poi staremo insieme farò i vlog in Italia a Milano vacanza vacanza quindi total relax e poi non bisogna dimenticarsi il meteo il meteo lo metto qui questa volta allora perché sabato e domenica sono sempre piccole le pagine meteo meteo ok poi in che colore l'ho scritto il meteo in viola bene bene allora abbiamo sabato come vedete sabato e domenica scusate temperature uguali quindi 5 gradi 11 gradi facciamo così e anche domenica 5 gradi 11 gradi mentre sarà nuvoloso sabato e domenica sempre freddo ma col sole wow mi saluta il sole allora settimana di ferie il tempo dovrebbe essere bello sia qui che in Lombardia insomma durante il tragitto quindi speriamo bene eccoci qua cosa ci sono rimaste di stickers mi sa poco raga ah intanto volevo mettere questa vacazione se ci sta perché è lungo ok poi ci sta questo bel fiore qua sopra vediamo se c'è ancora qualcosa di Halloween anche se è finito ci metto questo festone questa decorazione un po' floreale che si è rotta quindi non la metterò più aspettate che la correggo con con le forbici si è rotta e mi è rimasto il pezzo grigio qua ma adesso l'aggiusto che sembra nuova ecco qua nessuno se ne è accorto poi cosa abbiamo ma questo questo boccettone contenitore con degli occhi una stella seconda stella a destra questo è il cammino e io dormirò fino al mattino questa l'ho inventata io questa zucchetta non la riesco a prendere già da prima questo non lo so che cos'è una punta di qualche cosa non ne ho idea ma che bello il weekend che è venuto dai ci prendiamo ancora qualcosa no basta dai allora andiamo a fare un riepilogo veloce ok togliamo tutte le cose da qua riepilogo veloce facciamo zoom no al contrario Paolino così facciamo un riepilogo allora raga questa è la settimana scorsa bene siamo qua lunedì si lavora dalle 13 alle 20 se magna hamburger e insalata martedì si lavora dalle 13 alle 20 se magna insalata col tonno temperatura comincia a scendere mercoledì un'ora di lavoro in più pasta col pesto vedremo temperatura insomma rimane così giovedì di nuovo dalle 13 alle 20 se magna carne con verdure temperatura comincia a scendere raga questo è halloween buon divertimento se fate qualcosa se non vi interessa come me state a casa tranquilli primo novembre venerdì ci godiamo il relax a casa sono libero diamo un benvenuto a novembre poi sabato ancora lavoro 13 20 ultimo giorno mi farò una bella insalatona di riso per festeggiare l'autunno raga io l'insalata di riso la maggio tutto l'anno non ho stagione farà veramente comincerà a fare freddo perché 11 gradi di giorno state fermi lì e poi domenica 3 novembre ma io già alle 8 di sabato mi sentirò in vacanza cominciano le vacanze speriamo tutto bene total relax col tempo freddo però ci sarà il sole a rincuorarci raga grazie mille per aver visto questo video spero che vi siate rilassate con me vi mando un bacione grande vi voglio bene lasciate un like un commento ci vediamo domani sera per un bellissimo vlog in premiere mi raccomando vi aspetto tutti quanti Paolini un bacione grande un abbraccio buona serata buon giorno se mi state guardando la mattina vi voglio tanto tanto bene ecco che abbiamo raggiunto la mezz'ora di video lo sapevo lo sapevo grazie a tutti